Mi chiamo Marco, comunque. Piacere, Gina. Il mio sogno è di diventare attrice. Quindi che ci va a fare dall'onorevole? Era la segretaria che dice che purtroppo non la può incontrare adesso perché ha un impegno importante con a sua completa disposizione. Mi piace. Che be' mettete a pascolare pecore in mezzo alla strada? Ma non è niente, dai. Ma come non è niente? È il mio primo giorno di lavoro. Ogni occasione che ho avuto dalla vita non l'ho mai colta. Non rispondere, non rispondere. Che cazzo lì si è messo in testa? Che cazzo lì si è messo in testa? Cazzo lì si è messo in testa? Grazie a tutti.